Benvenuti in un nuovo video! Vi porto in escursione con me, andiamo alla Punta Lunelle, vicino a Torino e questa volta tracciamo il percorso con un'app molto interessante che potete scaricare anche voi, ovvero Wikiloc. Tracceremo il nostro percorso. Iniziamo bene. Siamo immersi nel bosco, seguitemi in questa bellissima escursione. La prima parte del sentiero, tra l'altro molto ben tracciato, molto ben segnato, si svolge in questi boschi, in queste mulattiere agevoli, dove è forte la presenza dell'uomo che nel corso dei secoli ha modellato il bosco e il paesaggio circostante. Quindi ora noi proseguiamo fino a raggiungere una zona un po' più selvaggia. Oh, guardate che bella! Questa è un'orchidea, la nostra orchidea italiana. Ora ve la racconto meglio. Guardate che belle le foglie maculate. È un fiore bellissimo, molto interessante. Noi siamo abituati a vedere le orchidee nei negozi di fiori, no? Quelle grandi, belle, colorate. Queste sono piccoline, però sono nostre, sono italiane e sono una specie protetta, perché rischiava appunto di scomparire dai nostri bellissimi prati. Ora è da qualche anno che la vedo sempre più di frequente e sono molto felice perché è bellissima. Dopo aver avviato l'app, ecco che ci fa vedere dove siamo. Come potete vedere sono immersa in un bosco e sto seguendo un sentiero parallelo a una carrozzabile. La cosa bella che mi piace è che posso scegliere anche il tipo di mappe, quindi scaricarle e averle sempre offline, quelle online, quelle satellitari, standard, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è molta, molta scelta. Una caratteristica interessante è che da ora nell'abbonamento premium si possono avere anche le mappe 3D, quindi vedere proprio i rilievi delle vette che stiamo percorrendo e questo ci dà una sensazione proprio di realismo, mentre guardiamo semplicemente uno schermo per non perderci. Anche oggi c'è la mia mascotte che mi accompagna lungo i cammini, mia, la barboncina cieca, ma perfettamente escursionista. Vedete, sto via via uscendo dal fitto del bosco. Sono partita da Traves, mi sono immersa in questo verde ombroso e adesso ne sto uscendo. Quindi, giovani boschi, antichi terrazzamenti, il sentiero resta sempre ben visibile fino al colle Lunette, poi partono le rocce per arrivare alla punta Lunette, dove c'è la croce di Vetta. Ed è lì che noi andremo. Dai signorina, muoviti, andiamo. Guardate poi che bella questa funzionalità. Il live tracking, ovvero rilevamento in diretta, e ve lo spiego meglio. Io spesso mi rivolgo alle donne che vogliono viaggiare da sole. Questa è una funzionalità ottima in questo senso, se vogliamo parlare di sicurezza. Però è adatta veramente a tutti, perché in montagna la prima regola è badare alla sicurezza. In questo modo voi potete condividere in tempo reale il vostro percorso con amici, parenti, chiunque vi voglia seguire. In questo modo avete sempre una sicurezza in più. Ed è una figata! Qualcuno ha caldo? Mi sono imbattuta in una bellissima pianta che conoscete tutti perché vi mangiate le bacche, ovvero il ginepro. Il ginepro è una pianta molto interessante, eccola qua. Perché? Perché le bacche che noi ben conosciamo maturano a stagioni, anni alterni. E ora mi spiego meglio. Sulla stessa pianta ci sono le bacche pronte per essere raccolte in questa stagione, quest'anno, e ci sono già quelle che matureranno l'anno prossimo. Ve le faccio vedere da vicino. Qui quelle pronte e poco oltre quelle che saranno pronte. Che pianta interessante, vero? Tra l'altro per farvi questa ripresa mi sono messa su una roccetta espostissima al sole. Meno male che ho il cappellino. Perché? Perché è importante proteggere la cavezza dal sole, mamma mia! Sono io col mio cane in mezzo al verde, non c'è nessun altro, è bellissimo! Qui ci si aprono due possibilità. Da una parte il Colle Pra Lorenzo, che è a circa dieci minuti in più di strada rispetto alla Punta Lunelle. La Punta Lunelle però è più ripida, ovviamente è una vetta. Noi dove andiamo? Alla Punta Lunelle! Approfittiamo del momento di pausa. Vi faccio vedere questa funzionalità che è il Trova Percorsi. Voi potete mettere un punto di partenza o comunque potete vedere già da dove vi trovate tutto quello che offre Wikiloc. Ed è bellissimo! Così in base a dove siete, se avete un momento libero o volete cercare nuove ispirazioni, basta entrare in questa funzionalità e vedere tutto quello che Wikiloc vi offre. Così magari scoprite anche nuovi sentieri. Io ora sono qui, sto arrivando alla Punta Lunelle, però già mi sto facendo un'idea di che cosa ho attorno e che cosa potrei esplorare la prossima volta. Ora vi voglio dire una cosa molto curiosa, molto particolare di questo posto. La roccia che vedete intorno a me è ultra basica, quindi non permette molto bene che delle piante vi crescano sopra. Però nei dintorni si è sviluppata una flora molto particolare anche. Ci sono quelli che vengono definiti endemismi, ovvero delle piante praticamente che crescono solo in un dato posto. Ci sono delle piante anche abbastanza rare da trovare in giro, tipiche di questa zona e non di altre. Una di queste l'abbiamo trovata e si chiama Daphne odorosa. È un fiore, è un fiorellino molto carino, molto colorato e molto molto profumato che ora vi faccio vedere. Ma ciao bellezza, ti nascondevi? Ce l'abbiamo fatta! Siamo in cima al mondo! Ora meritata pausa. Bene, anche oggi i nostri 800 metri di dislivello positivi li abbiamo fatti, ora li facciamo in negativo. Torniamo alla macchina. Siccome la discesa è ripida, perché io vi ho parlato di 800 metri di dislivello, ma non vi ho detto che sono neanche 3 chilometri. Ecco, la discesa è ripida, lo zaino è diventato un po' più pesante, meno male che è capiente. E quindi io mi aiuto con il fedele bastoncino. Preservo le ginocchia, preservo le gambe, preservo me stessa. Ok, il tempo sta decisamente peggiorando, muoviamoci. Doveva succedere, doveva succedere, era troppo bello per essere vero. Anche se sembra tutto terzo, splendente, meraviglioso in montagna, il tempo può cambiare proprio da un momento all'altro, come avete visto. Sempre un guscio impermeabile e un ottimo coprizzaino. Lei si è bagnata, vero? Ovviamente è scesa dallo zaino. Ora che la pioggia ci dà un po' di tregua, abbiamo trovato anche l'endemismo, ovvero la pianta che abita solo in questa zona. Ve la presento, lei ha l'euforbia, gibelliana, peola. Che soddisfazione vedere tutto il sentiero fatto su una mappa in rilievo tra l'altro, è bellissima. Voglio dirvi anche un'altra cosa che potete fare con Wikiloc. Quando battete una traccia con Wikiloc potete anche decidere di inviare il segnale, la traccia che state battendo, a un dispositivo GPS. Io per esempio in questo caso ho l'orologio. Così anche per una questione sì di sicurezza, ma soprattutto di una migliore navigazione, riusciamo ad avere il cellulare nella tasca e la traccia sempre registrata con Wikiloc a portata di mano. Bellissimo, è un'app super completa. La pioggia sta finendo, io ho trovato un riparo e c'è da dire che ogni passo fatto nella natura in estate diventa veramente qualcosa di bello. Per lo spirito ed indimenticabile per la mente. Sono molto contenta. E poi ognuno di noi sceglie come vivere la montagna, ad ognuno il suo passo. L'importante è equipaggiarsi di conseguenza, quindi bene, e godersi proprio ogni singola esperienza fatta. Che meraviglia! Ora vi do un altro motivo per scegliere Wikiloc in versione premium, perché loro con il ricavato di questi abbonamenti devolvono l'1% a sostegno del pianeta, quindi hanno un occhio di riguardo verso la sostenibilità. Come? Attraverso dei progetti di conservazione. La trovo una cosa veramente molto bella e anche coerente. E per voi che mi seguite sono riuscita ad ottenere un codice sconto sull'abbonamento premium. Lo trovate qui sotto. Qui posso mettere tutti i dati, così mi rimane in memoria. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia utile per le vostre prossime escursioni. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdervi i prossimi contenuti che metterò. In questo modo andrete ad aiutarmi tantissimo a migliorare la qualità dei miei video. Buone avventure a tutti e ricordatevi di esplorare il pianeta in modo responsabile. Ciao!